Stai bet alla classifica di microonde, guardiamoci il grande cinema di DJ TV. Sì, ho capito, ma è la posizione numero due? C'è un film bellissimo di Bollobud. Che pareva. Ci sono momenti in cui un uomo si allaccia le scarpe. Sì. È un gesto normale. Ebbè. Ma certe volte dentro la normalità si nasconde un segreto. Ahia, non capisco però. Perché lo guardano male? Se non lo sa lui. Che cosa ha fatto? E questi? A chi ha pestato i piedi? Ora questi qua ci si mettono? A tutti. Ci sono momenti in cui un uomo si allaccia le scarpe. Certo. Per prepararsi alla fuga. Vai di corsa! Si parte! Diversivo. Lo inseguono per chilometri. Senza tregua. Alla faccia. Talmente a lungo che a un certo punto deve pure chiamare per disdire il parrucchiere. Riesce anche a telefonare mentre corre. Il loro lo inseguono. Quanti sono? Eh, tantissimo. Sono anche incazzati. Lo inseguono e lo inseguono. E dove è andato lui? Lo inseguono fino a che lui non arriva proprio lì. E va dove lì? Dov'è? Che cos'è? Sono un mucchio di sacchi. E anche tranquillo. Adesso immagina la patatina. Immagini più. NICCATENATO IN... TANA LIBERA TUTTI! Mamma che botte! Vai di catene! Robi, segui questo qua. Sono il mio amministratore di condominio. Hai capito? Ma mica menerai così. No, di più, peggio. Solo su DJ TV. Ed era il grande cinema la posizione 2. Adesso possiamo finalmente svelare la cima della...